Ciao a tutti ragazzi, sono P-P-P-P-P-P-P-P-Pander e benvenuti in questo nuovo video, siamo su Iglesias Craft agli Skywars E... avevo detto che ero assente in... in questi giorni Ma non avevo calcolato una cosa, che io, dopo che è finita la scuola, ovvero oggi è il primo giorno di vacanza, è sabato 7 giugno E... io la mattina sono libero, non ho un cazzo da fare, sono da solo a casa, quindi posso urlare quanto mi pare, tipo... Tipo così, però abito in un palazzo e allora la gente chissà cosa pensa E... quindi niente, qualche video ci sarà sicuramente anche... ora non voglio allargarmi ma... probabilmente anche 2 alla settimana Che figo E... anche 2 alla settimana perché, vabbè, essendo che ho la mattina tutta free Può darsi che avrai... possibilità di fare dei video, insomma, vabbè, robe così Sono distratto e allora non sapevo cosa dire Ma sono cose che capitano quando hai un telefono che... con il silenzioso, con i messaggi di whatsapp che spammano Beh... 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 buttiamoci Facciamo uno skyward su Iglesias Speriamo di vincere, perché se no... è capito Il gufo poi vola e spacca le ossa Se poi cade un uovo, chissà cosa succede Meh... i villici Eh... manca poco tempo, metti i secondi Benissimo Ma c'è pensato un osso che cade, fa giù, fuma un po' e poi usa il cacciavite Boh... poi apri la cassa, non lo so, poi vai nella clay e... Boh... e spacca l'indistruttibile Sarebbe proprio il colmo Però mi piacerebbe vederlo, eh, qualche... qualche video su YouTube Se avete capito, fatemelo vedere, perché io... io sinceramente, guarda, non so... non so proprio come... Non saprei proprio come immaginarmelo nella mente Guardate che bella cassa di merda Ghiaccio, che cazzo me ne faccio il ghiaccio Potrebbe diventare acqua, sì, ok, ma che cazzo me ne faccio io Non è che... Sono affogato Scusate... ma... mi è venuta un po' di tosse Se vi siete un po' schifati... vabbè, capita Tanto qualcuno mangiare Stronzi Ah, ma la cosa bella è che io sono da 3 ore e 19 minuti al computer E... sono stato a cazzeggiare, ok? Io li aspetto qua, eh, basta Tipo questo... sono stato a cazzeggiare dicendo... ah, vabbè, tanto la mattina tutta libera, cosa faccio? Registro È l'1 e 20 adesso... e io ancora non ho nemmeno il pranzo fatto Pensate un po' Quindi me la sono proprio presa larghissima Questo video lo devo renderizzare e devo farlo uscire oggi per forza No, per forza no Però questo mi ha rotto la minchia, eh O mi campero qua sotto e poi succede abitità Tu... Eh, no Si sta chiudendo Non avvia di scampo Non mi ha visto Canabbo 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 Aaaaaah Ciao Ciao Eh... Oddio, oddio Questo è la casa Vieni amico Che fai, non vieni? Che fai, non viene? Non viene Vengo io, non c'è problema Ah, succhiamalo Per condio Ops Questi assalti veramente presi da dietro È come prenderlo da dietro Che schifo Che schifo Insomma, mi affroscio Ma, guarda un maschio Che schifo Andiamo, andiamo, andiamo Facciamo un'altra subito, velocissimo Ecco Questo invece è il telefono della mia sorella Che si è dimenticato Che cazzo Che poi il suo telefono ha anche il codice Quindi non lo posso nemmeno sbloccare Oh, porco Però posso vedere cos'è Aspettate Non ho il codice, sto stronza Eh, panda Il server che fine ha fatto È morto È morto il server Andiamo Wow Ma che Che Fantasca Fantasca Amorica cassa Che discegli lingua Vai panda No, comunque volevo dire Guardate che bella cassa Fantasmagorica Con un cazzo dentro Cibo Non mi serve No, let's go Let's go No, questo è cibo Ma che cazzo Non faccio niente Oh, io faccio l'assalto Spero che non mi inculino da dietro come un'altra volta E nemmeno da davanti Ecco, ecco, ecco Nemmeno di lato, cazzo Nemmeno di lato Merda E si retreggia E si lagga Eh, porca Dia Minchia come si lagga Non volevo vincere almeno mezzo Dai, però dovete dire la verità Sti Skyward laggano Oh, madonna A me pare che tutti gli Skyward laggino In tutti i server Tipo Non lo so perché Un'altra volta mi trava indietro Stavolta non so se l'avete notato anche voi Però Ci sono certe laggate che si notano solo giocando Qualcuno con magari un po' più di esperienza Potrebbe capire Ma comunque si Laggano Si server Skyward Stanno al plugin Così sicuramente Boom Stessa mappa Cassa diversa Oh, bingo Wow, una miniera Inutile Vedete Che mi apre la cassa Quando cazzo gli pare E non è la mia connessione Perché la mia connessione fa paura a tutti Proprio paura Faccio Boom Boom Ecco In quel senso Tanto è meglio controllarci le spalle Che dopo quella Inculata Ecco Sarebbe meglio non prenderne un'altra Ma questa armatura fantastica Io non me l'aspettavo Davvero Ringrazio per la nomina Roxy Freddy Anche se Sì Proprio Merda Merda Non ho visto Finocchio Ehi, ehi, ehi Ciao Oddio Ha aperto la cassa quando stava cadendo Fantastico Vieni, nemico Guarda Questa cosa Non se l'aspetta mai nessuno Smash Hacker Ecco Se vedete Si chiama Smash È un hacker Quindi Stateci attenti State attenti anche a cadere così Quello mi tira una palla Ma voi non sapete cosa sto per fare a quello Io provo l'attentato Oh Vaffanculo Ma si sta chiudendo Ma Questo lag Questo lag Ciao Quel tipo di lag Io dico Sti stronzi Che schifo Porco dio Che culo Via Si chiude Ah, presto la cassa Oh my god The hands This is fucking incredible Di ball Questo può servirmi Questo pure Via Devo stare attento All'alto dei cieli Anche quei blocchi Mi servono Boom Bitch Get out of the way Carne Carne Mi serve Shhh Parlate piano C'è il bambino C'è il bambino Parla piano C'è il bambino Parla piano Mi raccomando Parla piano C'è il bambino Questo minculo è da dietro Non mi ha visto Sono shiftato Non mi ha visto Permanente io lo vedo C'è un problema Dov'è? Cazzo è? Vole andare in alto Eccolo Shhh È caduto Mamma mia Siamo rimasti in tre Vedete sto cazzo di lag Dio Babuino Uff Boom Unico blocco non costruito Ci potevo cadere solo io Immagino Andiamo 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 Eh ma che sto scemo Ma che co Che co Che 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 cazzo Era sto tizio Che cazzo fa Spada tirata Ma che Sei Pagzo Te ne hai proprio capito niente Cioè te ne hai capito proprio nulla 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 Bravo leva l'acqua stronzo E pensare che mi ci stavo per buttare Sti gazzi no? Ma cosa fai? Guarda quello stronzo come sta risalendo l'acqua Pokéball Salvami tu No Ma sta risalendo Che schifo Sali Salta Sali Salta Sali Salta Ragga Cazzo Turr Eh non sprecate Ma Che schifo Non mi prendi Invece si Guarda guarda Lo sta saltando da dietro Tacca Fufì Oh Siamo rimasti in due Lui non mi vede Silenzio Senti Non mi vede Senti Senti E' fermo Se mi sente Sono ragazzi Oh cazzo M'ha visto Che schifo Che schifo M'ha visto Che schifo Merdo ho finito i blocchi Che schifo Mi sono salvato Che schifo 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 Lo sto fregando Lo sto fregando Lo frego Lo frego Lo frego Lo frego Non mi prendi Non mi prendi Ho vinto io Ho vinto io Fantastico L'ho vinto io Dopo due Skyward Sparse Almeno uno vinto Ci sta di brutto E quindi per questo video è tutto Ciao a tutti